Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Io sono Michael TheDude e oggi sono qui per insegnarvi a piegare la carta per fare questo pellicano in origami. È un origami semplice e occorre un solo foglio di carta quadrato. Bene, cominciamo! Prendete un foglio di carta quadrato ricavato da un foglio a quattro e come prima cosa fighiamo su una sola diagonale. Riapriamo il foglio e ora portiamo questa linea e questa linea qui al centro. E ora ripetiamo la stessa cosa, quindi pieghiamo di nuovo a metà. Prendete il modello, giratelo e ora prendiamo questa punta e la portiamo fino a questa punta, così. Marcate la piega e ora pieghiamo il foglio a metà, su questa linea. Ora prendete la parte interna e senza aprire il foglio portatela verso l'esterno e portatela verso l'esterno finché non arriva a 45 gradi più o meno. Quindi qui, quando arriva a 45 gradi, premete qui per fissare la piega. Ora facciamo una pocket fold su questa punta. Quindi apriamo il nostro foglio qui, spingiamo verso l'interno e questa piega centrale la invertiamo, la facciamo diventare una piega a valle. E poi premiamo le pieghe dovute. Regolate il vostro becco finché non avete l'effetto desiderato. A questo punto prendiamo questo lato e lo portiamo qui, in questo modo. e poi riapriamo. Lo teniamo con un angolo di 90 gradi. Girate e ripetete la stessa cosa. E anche qui, riapriamo con un angolo di 90 gradi. E avrete il vostro pellicano. Se riesco a farlo stare in piedi. No, va bene. Avrete il vostro pellicano che non sta in piedi. Finito. Anche oggi tutto adesso è concluso. Ma se volete restare con me potete visitare il mio canale dei videogiochi. E se volete piegare l'altra carta ho preparato delle playlist per voi. Altrimenti eccovi dei link rapidi. Se vi è piaciuto il video potete cliccare mi piace e commentare. E se volete restare aggiornati sui nuovi tutorial, non solo di origami, potete iscrivervi al canale. Da MichaelTheDude è tutto per oggi. Grazie per la visione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.